La qualità dei prodotti inizia con la cura con cui si selezionano le materie prime. È la mission della Rocca SRL che per le sue olive effettua controlli dimensionali, chimici, organolettici e qualitativi durante tutte le fasi di lavorazione, dalla selezione alla conservazione al confezionamento. Nell'ampia offerta troviamo sette tipologie di olive. Olive dolci dal sapore delicato e polpa croccante, olive salate italiane o greche, ottime per aperitivi, piatti freddi, insalate e piatti a base di pesce. Olive nere, naturali o essiccate con il loro tipico aspetto rugoso, hanno una polpa morbida e il sapore salato. Olive gaeta, le olive più pregiate. Olive farcite, coltivate nella zona di calcidica, vengono farcite a mano con ingredienti di prima scelta. E infine le olive condite, aromatizzate con spezie e olio, sono ideali per chi ama i sapori forti, ottime con cacciagione e un buon vino rosso. Grazie per la visione!